Il processo nei confronti di un uomo, di un sindaco che mi ha offesa, mi ha umiliata in quanto donna e dunque io sono qui perché appunto confido nella giustizia e voglio andare avanti non solo per riscattare la mia dignità, ma anche lo faccio per mia figlia e lo faccio per tutte le figlie d'Italia che hanno diritto di vivere in un paese in cui si sentano apprezzate e rispettate.